La difesa è a tre e poi c'è solo da valutare se fare un 3-4-3, 3-4-2, di sicuro giochiamo con due mezze punte, una punte, due punte, una mezza punte, giochiamo con una squadra più offensiva, con gli esterni alti che spingono, lì devono essere bravi i difensori a guidare i propri compagni, è una squadra che è portata all'attacco e a giocare palla a terra, anche perché la cosa che mi sono dovuto lavorare di più è sul fatto che come prendevano palla lanciavano lungo, ed è una cosa che a me non piace, quindi ho dovuto far memorizzare sempre palla a terra, giocatori bravi, bravi tecnicamente, tecnicamente sui giocatori portati al gioco palla a terra, anche perché sui giocatori che sull'uno contro uno sono bravi, bisogna sfruttarli, non è che ogni tecnico ragiona in una maniera diversa, io ragiono per far divertire, prima la squadra fa divertire anche chi paga il biglietto allo stadio, poi i risultati alla lunga arriveranno se la squadra gioca bene, è normale, io da tifoso se vado allo stadio a vedere la squadra del cuore voglio vedere almeno giocare a calcio e questo è quello che dobbiamo fare noi, giocare a calcio, fare divertire il pubblico, cercare di riportare entusiasmo e gente allo stadio. Bene o male del Barletto conosco quasi tutto, anche perché l'ho visto giocare tre volte, però in quelle tre occasioni ha fatto tre partite completamente diverse, di cui a Catanzaro meritava di vincere, ha fatto una partita dove sono stati sfortunati, hanno giocato solo loro e hanno pareggiato, col Ponte d'Era hanno fatto 25 minuti brutti e poi il resto hanno fatto bene e hanno pareggiato, ho visto la partita col Grosseto dove saranno arrivati in aria una volta solo e hanno portato via però un pari, non è che vado dietro alle statistiche, quando l'anno scorso, due anni fa e anche l'anno scorso che ero a Catanzaro, il Catanzaro non ha mai vinto a Perugia e abbiamo vinto tre volte, non ha mai vinto col Perugia, abbiamo vinto due volte a Perugia e poi in casa. Ce ne sono stati di quelle partite dove anche lo stesso che a Catanzaro uno scontro diretto è una partita importante, hanno sempre fatto scilecca e noi siamo riusciti sempre a vincere, ma per me sono cavolato, se poi uno va a credere alla cabala ci può stare di tutto, però l'obiettivo nostro dopo domani è quello di portare a casa o con le buone o con le cattive, tre punti importanti, far vedere già qualcosa del cambiamento che c'è stato nella società e dello staff tecnico, perché sono giovani che vogliono arrivare e hanno fame di arrivare ed è la mentalità giusta, quelli più grandi sono elementi importanti, esperti e sono loro che devono guidare i giovani.